Nessuna concessione, il GIP di Pisa ha rigettato la richiesta di rito abbreviato per Luigi Cascino, reo confesso dell'omicidio di Roberto Checucci, l'uomo trovato senza vita sull'argine dell'Arno a Castelfranco di Sotto il 27 settembre scorso. Il processo inizierà il 5 ottobre e la richiesta di un processo rapido allo stato degli atti, un terzo di sconto della pena in caso di condanna, era stato il primo tentativo da parte dei legali per raccogliere l'opportunità di far accadere l'aggravante della premeditazione che la procura contesta all'uomo. La richiesta di rito abbreviato, come ricostruisce la nazione in questa fase, può avere anche un'altra valenza, perché nel processo in Corte d'Assise, dove Cascino rischia l'ergastolo, i benefici dell'abbreviato potrebbero essere eventualmente riconosciuti qualora, all'esito del dibattimento, la Corte dovesse far accadere la premeditazione del delitto. Su questa il lavoro difensivo è stato imponente. Dopo la confessione di Cascino, infatti, l'aggravante è, per i suoi legali, il nodo da affrontare e risolvere. Il processo si gioca tutto lì. La procura non ha mai avuto dubbi. Un delitto organizzato, il killer seguì la vittima, portando con sé le armi con cui lo finì. Cascino, dopo il suo arresto, passate alcune settimane in carcere, fece recapitare al magistrato tramite i suoi avvocati un biglietto contenente la confessione «Sono stato io a colpire Roberto». E a quel punto dette anche le indicazioni precise su come trovare le armi che aveva utilizzato.